Il primo a comprendere il meccanismo con cui i figli ereditano le loro caratteristiche dei genitori fu monaco cieco Gregor Mendel, vissuto nel XIX secolo e considerato per questo il padre della genetica. Con i suoi esperimenti sulle piante di pisello selvatico, Mendel formulò tre leggi che dimostrarono che la trasmissione dei caratteri si basa sulla distanza di elementi, che oggi noi sappiamo essere i geni, diversi tra loro e che sono presenti in coppia in ciascun individuo. Ripercorriamo adesso insieme queste tre leggi. Per arrivare alla sua prima legge Mendel è partita una domanda. Di che colore saranno i semi di una pianta di pisello selvatico figlia di un incrocio tra una pianta di linea pura semi gialli e una pianta di linea pura semi verdi? Dopo l'incrocio Mendel ottenne una prima generazione filiale F1 di ibridi, ovvero derivanti da due linee pure in cui tutte le piante presentavano i semi gialli. Il colore verde sembrava scomparso. Mendel ripete l'esperimento per altri caratteri della pianta di pisello ottenendo sempre lo stesso risultato. Nella generazione F1 si manifestava un solo tratto, l'altro spariva. Chiamò quindi dominante il tratto che si manifestava mentre recessivo quello che non appariva più. Queste evidenze lo portarono a formulare la prima legge di Mendel o legge della dominanza, secondo cui da un incrocio di individui di due linee pure che definiscono per un solo carattere si ottengono individui ibridi in cui si manifesta solamente uno dei due tratti, quello dominante. Successivamente Mendel si chiese cosa fosse successo al tratto recessivo, quello che sembrava scomparso. Prese le piantine ibridi della semi gialli della prima generazione filiale e le fece autoimpollinare, ottenendo una seconda generazione filiale F2. Il Monaco osservò così una cosa molto particolare, ovvero che alcune piantine della F2 presentavano il tratto dominante, il semi giallo, mentre altre il tratto recessivo, il seme verde. La stessa cosa succedeva con tutti gli altri caratteri scelti. Quindi il tratto che non si manifestava nella prima generazione filiale ricompariva nella seconda. Dopo moltissimi incroci, Mendel si accorse che le piante con il carattere dominante e quelle con il carattere recessivo si presentavano sempre con un rapporto quantitativo di 3 a 1. Formula quindi la seconda legge di Mendel o legge della segregazione dei caratteri, secondo cui quando un individuo produce dei gameti, le due coppie di un gene, gli alleli, si separano e ciascun gamete riceve soltanto uno dei due alleli. Se un individuo riceve due alleli uguali sarà definito omozigote per quel carattere, se invece ne riceve due diversi sarà eterozigote. Il passo successivo fu incrociare piante che differivano per due coppie di caratteri, piante con piselli a semi gialli e lisci, due tratti dominanti, e piante con piselli a semi verdi e rugosi, due tratti recessivi. Nella prima generazione F1, gli individui presentavano i due tratti dominanti, il seme giallo e liscio, essendo eterozigoti per entrambi i caratteri. La domanda di Mendel fu quindi la seguente, ma gli alleli dominanti presenti in un ibrido devono per forza finire assieme in un gamete, mentre gli alleli recessivi finiranno assieme in un altro gamete? Oppure un gamete può anche ricevere una combinazione tra alleli dominanti e alleli recessivi? Facendo auto-fecondare gli individui della F1, Mendel ottenne quattro varietà di piante che presentavano tutte e quattro fenotipi possibili. I due fenotipi della generazione parentale di partenza, seme giallo e liscio e seme verde rugoso, i due fenotipi completamente nuovi, detti ricombinanti, seme giallo e rugoso e seme verde e liscio. Formulò così la terza e ultima legge di Mendel, chiamata anche legge dell'assortimento indipendente, secondo cui durante la formazione dei gameti, geni diversi si distribuiscono l'uno indipendentemente dall'altro.